Al via la quarta edizione di Marche Europa, il progetto formativo che il Consiglio regionale delle Marche ha avviato nel 2016. Il filo conduttore di quest'anno sarà le città e i luoghi, abitare le Marche. Ad ogni appuntamento si proporrà una riflessione più specifica su un tema collegato a quello portante. Ad aprire la prima tappa del convegno è stata la città di Fano, dove presso la sala di rappresentanza della Fondazione Carifano si è ragionato su come pensare e amministrare la città. Il dibattito è stato introdotto e coordinato dal Vice Presidente del Consiglio regionale Minardi. Noi dobbiamo fare una profonda riflessione su questo, quindi avere la capacità di guardare al futuro, rispettare il territorio, far crescere le città parallelamente ai servizi. Al centro del tavolo del dibattito poi ha preso la parola il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, Mirco Carloni e Giancarlo Galeazzi, chiamato a ricordare le figure di Giorgio Lapira e Livio Sichirollo, soffermando l'attenzione sul valore del territorio marchigiano. Le Marche cominciano ad essere uno di quei posti che è difficile da abitare, perché viviamo un momento dove è una città, la nostra, ma le Marche, l'unione di tante città come la nostra e i più piccole, cominciano a diventare luoghi da cui si parte. E quindi noi dobbiamo ripensare veramente invece a come fare per viverci in questi luoghi. Purtroppo in questi anni si è persa una grande opportunità, perché si poteva realizzare una legge urbanistica che è del 1992, quella vigente, e che in qualche modo favoriva sia il rafforzamento dei centri storici intesi dal punto di vista sismico. La burocrazia in questo momento, secondo me, rende difficile non solo la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, ma anche di quelle piccole realtà che avrebbero voglia di valorizzare il patrimonio edile che c'è nella nostra regione. Governare i territori tra centro e periferia è stato l'argomento trattato da tre docenti dell'Università di Urbino, tra cui Ilvio Diamanti, Luigi Ceccarini e Fabio Bordignon. La bellezza di questo paese, diceva il Presidente Ciampi, è che è un paese di paese e di città. E quindi la specificità, la differenza, la diversità è una ricchezza, va valorizzata quella. Sappiamo di essere italiani, però sappiamo anche di essere marchigiani di Fano, di Pesaro, di Urbino, come mi sento largamente io. E questo è un valore. Nel corso delle diverse edizioni il progetto Marche Europa è divenuto itinerante, arricchendosi di idee, proposte e nuove partnership. Importante l'ingresso per l'edizione di quest'anno del Comitato Europeo delle Regioni e dei tre comuni ospitanti Fano, Ascoli, Piceno ed Ancona, in qualità di enti patrocinatori della manifestazione.